ciao ragazzi sono yes oggi vi insegnerò come si cambia l'overgrip della racchetta intanto scartiamo la confezione apriamo tutto l'overgrip qui come potete vedere c'è un piccolo adesivo che andremo ad attaccare in questa parte della racchetta e poi inizieremo vedete qui rimane fermo inizieremo a farlo girare intorno a tutto il manico finito tutto il giro potete iniziare a scendere in questo modo lasciando circa 23 millimetri o comunque sovrapponendolo di due o tre millimetri in questo modo fate tutto il giro lo fate più o meno lungo a seconda se fate il rovescio ad una o due mani e poi a questo punto mettiamo questo nastro adesivo che serve per fermare il grip l'overgrip anzi e ve lo tiene fermo ecco qua bellissimo overgrip la vostra racchetta è pronta per essere usato arrivederci amici di yes ciao